Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale, oggi siamo su Brawl Stars con un nuovo video. Oggi andiamo a provare un nuovo Brawler, almeno un nuovo da me, Dynamike. Quindi prima di incominciare vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale, grazie per chi lo fa. Allora intanto qua abbiamo una cassa gratuita, che la andiamo a prendere, abbiamo 18 monete, 5 volte, 10 franc, buono, e un biglietto. Allora come vedete, ci prendiamo anche le certe casse comunque, tanto per non che stanno a quadrare fastidio. Allora quindi, allora sto dicendo, no che non spunto più, che praticamente hanno dato dei punti di energia a me, le 1T per Penny. Infatti ora possiamo aumentarla, e forse la aumenteremo dopo. Quindi, intanto io vorrei andare a prendere dei punti per Bull, così non possiamo portare a livello 7. Scusate, ragazzo d'ore. E adesso andiamo a prendere Dynamike. Quindi possiamo portare Bull a livello 7. Allora, quindi prendiamo uno Brawler. Che è a tanto che lo aspettavo perché è quel corso di OP, veramente. Quindi, abbiamo uno solo Brawler. Magari ci devo fare qualche partita con lui, però non so dove... Vabbè, andiamo in Robo Assalto. Che è una mappa buona, andiamo a mettere... Magari i premi per 3. Cioè, essendo di livello 1, è scarso, però vabbè dai. Facciamoci una partita, tanto non abbiamo niente da perdere. Allora, vediamo. Ovviamente ho un Brawler, quindi può lanciare le bombe oltre i muri. Certo, devo imparare un po' a puliziarlo. Voglio provare a lanciare le bombe in lave. Non so se c'è? Sì, lanciano senza... Dobbiamo imparare un po' a puliziarlo perché, dico, è sempre un Brawler. Allora, vediamo cosa riesce a fare con... Un Brawler di livello 1. Comunque, vedo che il danno ne fa, comunque. L'abbiamo anche la cura. Allora, io mi occupo di questo qua. Vediamo. Vedatelo. Tutto è un po' più lento. Attenzione. Ci butto anche il bombone. Ok, non mi sono fatto chillare, però... Ora sì. Allora, abbiamo anche un mortaio, l'alcumelo, quindi devo messi bene. Ecco, un po' stanno aggando, però... E allora, ragazzi, vediamo... C'è quel mortaio che ci aiuta veramente tanto. Andiamo a mettere... Certo, ovviamente... Certo, ovviamente ora... I... I robot stanno facendo un po' più cocciuti, però... Non dovrebbe essere ancora un problema. Allora, andiamo a mettere sempre le bombe. Allora, andiamo a bombardare così. Allora, andiamo a bombardare così. Allora, andiamo a bombardare così. ... Certi ad ogni ne faccio pochi perché di livello basso ancora. Però... Percato, è arrivato con un capello di vita e ci ha fatto male. Però, ci stiamo facendo male perché... Questi qua sono quelli più forti Vediamo se riusciamo a difenderli No, vabbè Non ho visto che il Natal era comunque 3m3 Dovrebbe essere decente Quindi prendiamo un gettone a stella E senza andare al quinto Ma io ragazzi Ci siamo fatti il quinto La quinta nella cassa L'avevo ricercato Mi pare un po' troppo scarsa Ancora per me la provare Raffaggiammene penso Ci facciamo una solitaria Penso che l'ultima partita di oggi Saranno proprio subito Vi ricordo anche che a 50 iscritti farò la live Allora vediamo Vabbiamo a dire che il power up Ok, già ci vado a scrivere male Vabbè, è sempre un blow per il livello basso Quindi Come dico Abbiamo fatto la prima volta La prima volta E allora andiamo a prenderci A 50 onto Ok Ok Spendiamo per l'obbiscono i cam Ok Spendiamo per l'obbiscono i cam Spendiamo per L'obbiscono i cam Spendiamo Ma con il razzo Lui mi Uccide praticamente Però Vabbè ragazzi Mi ha conto di fare una piste Tipo quinta Spendiamo Allora Vediamo Siamo settimi No Ho sbagliato a buttare le bombe Che non ve lo fa' tutti in donna Ma qualamente Vabbè ragazzi Ci prendiamo altre 4 coppe Sempre facili e facili Così Ehm Vabbè Riusciamo a scalare con il nuovo brawler Eeeh E' ovvio Senza novi brawler Non si può scalare Quindi mi accontento portarlo al nodo in grado Oggi Ovviamente Tutte le casse che Mi sto accumulando Le andremo ad aprire quando Uscirà Il nuovo brawler Karl E quindi Tenteremo di sbloccarlo Il nuovo brawler Io provo ad andare a prendere Ok Ho fatto una kill Però Power up Mi è venuto rubato Ora Se mi esco da qua Voglio andare a prendere E infatti Ehm Sono andato troppo prestivo Per prendere quella casse Ehm Com'è Che Senza Pagliorare Qui 2 1 1 1 1 1 3 2 3 2 3 5 ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti